Musica Penso che la forza delle immagini sia quando un'immagine ha bisogno che la facciano gli altri cioè quando chi guarda è anche autore dell'immagine bisogna dire lì che manco guardavamo eravamo tutti autori dell'immagine L'entusiasmo che ho provato in quegli anni rispetto alla possibilità effettivamente di esprimere un mondo diverso era determinato dal fatto che eravamo tantissimi, dovunque riconoscevi dei tuoi simili Quest'immagine invece ci racconta il fatto che c'è un'altra narrazione di quello che è avvenuto in quegli anni che è l'elemento dell'umanità dei rapporti, della solidarietà che è un legame imprescindibile dentro la dimensione dei tumulti, dei conflitti che provano a cambiare questo paese e che hanno provato a cambiare questo paese è forse l'elemento più importante dell'esperienza, almeno dal mio punto di vista, dal punto di vista di una persona che non ne ha vissuti quegli anni è forse l'elemento più bello e più interessante Lui ha fatto una cosa che io non avrei mai fatto tornare indietro e provare a soccorrere sottoscritto l'amico in difficoltà io sarei andato direttamente a casa, non sarei proprio più tornato Grazie a tutti